Eccoci. Allora, nelle puntate precedenti per quanto riguarda lo studio dei vettori, abbiamo visto come sapendo il modulo e l'angolo che il vettore crea rispetto all'asse orizzontale, possiamo trovare le sue componenti Vx e Vy, le sue proiezioni orizzontali e verticali con segno, usando seno e coseno. Adesso invece facciamo il contrario. Se prima so il modulo e l'angolo e trovo le proiezioni, adesso invece se io so le proiezioni, uguali ovunque ad un numero, allora posso trovare il modulo e l'angolo. Quindi siamo esattamente nella situazione opposta. Cioè io so Vx e so Vy, ma le mie incognite, ovviamente io so disegnare il vettore, ragazzi noi lo speriamo già a disegnare perché faccio le proiezioni, il nostro vettore è questo qua. Ok? Solo che non sappiamo questo vettore rosso quanto è lungo, quindi proprio la sua lunghezza che poi sarà il modulo, e poi soprattutto non sappiamo l'angolo che è il nostro famoso angolo alfa, che il vettore fa sempre rispetto all'asse delle x. Ecco, noi dobbiamo trovare queste cose in rosso. Ovviamente ci sono altre due formulette. Una è molto semplice, nel senso che se noi abbiamo Vx e Vy, cioè le proiezioni, come si fa a trovare il modulo? Il modulo, ragazzi, è l'ipotenusa di questo triangolo rettangolo. Quindi il modulo, per trovare il modulo non si fa altro che la radice di Vx alla seconda più Vy alla seconda. Osserviamo che il modulo è sempre un numero positivo, perché è la somma di due quadrati sotto radice. E attenzione che se i Vx e Vy fossero negativi non ci interessa niente perché tanto vengono elevati alla seconda, quindi vengono positivizzati. Per trovare invece alfa, il metodo più semplice, conoscendo solo Vx e Vy, è ricorrere ad una funzione che si trova sulla calcolatrice, che sulla calcolatrice si chiama tan-1, ma è l'arctangente. E dipenderà solo da Vy e Vy in questo modo. Quindi bisogna fare sulla calcolatrice tan-1 di Vy fratto Vx. In questo modo troviamo magicamente l'angolo in grade. Quindi adesso facciamo un esempio per ricomporre il vettore. Cioè, adesso vi do le proiezioni di un vettore. Prendiamo ad esempio Vx uguale a 7 metri al secondo e Vy uguale a meno 5 metri al secondo. disegniamo, perché siamo in grado di farlo, il nostro vettore, che sarà un vettore lungo 7 e lo facciamo effettivamente lungo 7. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E poi Vy, ragazzi, va in basso perché è negativo. Attenzione, ricordo i segni. Quindi vado giù di 5. Allora, il vettore ovviamente si trova sulla diagonale di questo rettangolo. E adesso noi di questo vettore troveremo la sua lunghezza facendo Pitagora e l'angolo. Ma quale angolo? L'angolo sempre rispetto all'orizzontale. Quindi esattamente quest'angolo qua. Ok? E va bene. Allora, troviamo la lunghezza. Cioè? Cos'è la lunghezza di un vettore? La distanza dal suo punto d'applicazione alla freccetta. Va bene. Allora, per trovare il modulo, io non devo fare altro che la radice di Vx alla seconda più Vy alla seconda. Allora, come avete visto, non sto mettendo l'unità di misura perché se poi il calcolo diventa pesante, le mettiamo soltanto alla fine ricordandocela. Quindi, andando avanti nei calcoli, viene 7 alla seconda 49 più 25. Allora, 49 più 25 fa 74. Quindi viene la radice di 74. E se noi approssimiamo, viene 8,602. Adesso bisogna ricordarsi di mettere l'unità di misura. Quindi 8,602 metri al secondo. Quindi, io questo vettore qui, adesso lo conosco dal punto di vista, non della Vx e della Vy, ma dal punto di vista del suo modulo, che è 8,602 metri al secondo, e dal punto di vista del suo angolo. Come si fa a trovare l'angolo alfa? Allora, ricordiamo la formula. Per trovare l'angolo alfa, devo fare tan-1 di Vy, quindi meno 5, fratto 7. Allora, se noi facciamo tan-1 di meno 5, fratto 7, risulta meno 35,538 gradi, che dovrebbe essere esattamente il valore di quest'angolo qui. Adesso noi lo verificheremo. Comunque qui possiamo scrivere 35,538. Una cosa, perché non ho messo il meno? Il meno non è così importante se ne facciamo il disegno, perché significa semplicemente un angolo negativo che il vettore sta sotto l'asse x. Comunque, se noi facciamo il disegno, ce ne accorgiamo immediatamente. Ok? Ci basta adesso vedere se abbiamo ragione. Cioè, se l'angolo effettivamente che si fa rispetto all'asse orizzontale, abbiamo detto che è 35. Vediamo? Eh sì, come potete vedere, come mostra il righello, abbiamo 35 gradi di inclinazione. Ovviamente, in modo esatto, 35.538. Alla prossima. Grazie.